Adesso suoneremo due brani di Piazzolla che sicuramente avete già sentito e conoscete. Il primo è Adios nonino, che Piazzolla ha scritto quando è morto suo papà, che lui chiamava Nonnino, però questo era un tango, ovviamente Piazzolla lo scriveva come genere, ha dedicato il suo papà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.